Prima che diventassero istruiti, prima che si sposassero, prima che avessero figli, come erano e come sono diventati oggi. Sono diventati così. Non cercare di organizzare le cose come qualcun altro e poi non sai come gestirle. Sadhguru, il corpo umano è composto da un numero inimmaginabile di atomi, particelle e molecole. E anche la mente è davvero molto complicata. Con questi due strumenti complicati, come ci si può aspettare di vivere una vita semplice? Dipende da come definisci una vita semplice. Se pensi che essere un sempliciotto sia vita semplice, non te lo consiglio. Ma vita semplice, in genere, significava che le cose che organizzi intorno alla tua vita sono semplici, così che non ti legano, ti supportano e basta. Vedi, tutte le cose che organizziamo nella nostra vita dovrebbero migliorare la nostra vita. Non è così? Perché ti istruisci? Perché pensi che migliorerà la tua vita? Perché qualcuno si sposa? Perché pensano che migliorerà la loro vita? Perché la gente fa figli? Perché pensano che migliorerà la loro vita? Perché fanno affari? Perché pensano che migliorerà la loro vita? Ma guarda i volti delle persone e osserva. Prima che diventassero istruiti, prima che si sposassero, prima che avessero figli, come erano e come sono diventati oggi? Sembra che siano migliorati? Ci siete? Sono diventati così. Quindi, chiaramente, hanno organizzato così tante cose che non riescono a gestire. Hanno organizzato più cose di quante ne possano gestire in realtà. Non è così? Non hanno organizzato le cose consapevolmente. Cos'è necessario per me? Il loro problema è, ogni giorno lei fa shopping, quindi anch'io voglio fare shopping. Non so cosa, ma comprerò qualcosa e tornerò, perché anche lei fa shopping la mia vicina. Quindi, siccome sono in questa condizione, sebbene non ci sia nessun servizio container alla fine della vita, la maggioranza delle case sono diventati magazzini. La maggioranza delle persone possiede cose a casa propria che non ha usato da un anno o due e sono ancora lì. Non riescono a darle via. Ma ingombrano la loro vita in modo tale che devono inciampare ovunque per camminare in casa propria, perché non hanno costruito questa casa, non hanno comprato queste cose, non hanno formato queste relazioni come un modo per migliorare la propria vita. Usano ogni cosa per creare attaccamenti che legano la loro vita. Quindi, vita semplice significa che non sei legato. È molto importante. Diventi migliore, ma non sei legato. Organizzi le cose in qualunque modo vuoi, ma il tipo di organizzazione che puoi gestire, non è così? Non cercare di organizzare le cose come qualcun altro e poi non sai come gestirle. Perché organizzi qualcosa che non ti serve? Se organizzi qualcosa che non ti serve, queste cose diventeranno attaccamenti che ti legano. Quindi, quale tipo di organizzazione è migliore per te? Fai quello e basta. Questa è una vita semplice. Vita semplice non significa che sei un sempliciotto, va bene? La mantieni in modo tale che ogni volta, ovunque devi andare, puoi andare. Qualunque cosa devi fare, la puoi fare. Un ragno tessa una ragnatela affinché altre cose vengano catturate. Ma se sei quel tipo di ragno, per cui costruisci una ragnatela in cui vieni catturato, sei un ragno stupido, non è così? E la maggioranza degli esseri umani si trova in questa condizione. Quindi, semplicità significa un'organizzazione sensata che non ti legherà. Ti sei organizzato in modo tale che, se accade qualcosa di significativo, andavi da quella parte. Se qualcosa di davvero significativo accade da questa parte, puoi andare da questa parte. Le cose che hai organizzato non ti intrappoleranno. Questa è una vita semplice. Questa è una vita intelligente. Questa è una vita semplice.